ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della rubrica cricut facile potremmo dire anche cricut facilissimo dopo tutte le premesse della prima lezione come promesso adesso andiamo direttamente all'interno del software quindi mettiamo subitissimo alla prova il nostro strumento allora questa è l'interfaccia del famoso cricut design space che cosa c'è da dire ci sono quattro strumenti in croce quindi non avremmo difficoltà sicuramente a capirne il funzionamento nuovo vuol dire andare ad aprire un nuovo documento modelli se li apriamo ci da tutta una serie di prodotti prendiamo ad esempio questa gonna vedete già pronti già pre impostati per la lavorazione andiamo ad aprire ad esempio qui porta ed ecco che ci dà il modello della porta semplicemente noi mettiamo dentro la macchina un cartoncino di qualsiasi colore e la macchina ci va a tagliare quello che vedete qui non do nessun giudizio su questi modelli pre impostati passo direttamente a progetti se clicchiamo su progetti ecco che il design space ci dà la possibilità di andare ad usufruire di alcuni progetti già pronti quindi già realizzati che ci permettono di andare semplicemente a tagliare tutto ciò che ci dice di tagliare e realizzare quello che vedete qui nelle foto prendiamo ad esempio una tazza classica da 12 odds ad esempio questa è la dimensione della tazza ci dice che abbiamo altri progetti ispirati al mag design setup ci fa una piccola descrizione materiali da tagliare infusible ink ci dice un po tutto quindi tutto il resto cricut mag press ci dice tutto quello di cui abbiamo bisogno praticamente preparazione ci fa un praticamente un tutorial scritto di tutto quello che dobbiamo andare a realizzare clicchiamo qui in basso su personalizza e aspettiamo che si apre il progetto ecco qui il nostro progetto quindi andiamo a prendere un'immagine qualunque ed inseriamola all'interno del nostro template per chi non lo sapesse i template sono proprio questi modelli no è come se fosse un cartamodello per cucire mentre quello lo usiamo fatto in carta questo qui è digitale si chiama template andiamo a caricare la nostra immagine come si caricano le immagini allora abbiamo qui a disposizione una voce con scritto immagini qui nella barra degli strumenti ci clicchiamo sopra e vediamo che cosa succede ecco che abbiamo a disposizione come per i modelli e i progetti tutta una serie di lavori già preimpostati all'interno del software da questo punto di vista il software è proprio adatto per i principianti quindi per quelle persone che stanno iniziando adesso ad entrare nel mondo della grafica perché vi consentono di realizzare qualcosa senza mettere mano alla grafica quindi utilizzando modelli già pronti ma il mio intento è sempre stato quello di insegnare a farsi le cose da soli quindi non ad usare un qualcosa di già fatto però per chi è agli inizi giustamente per fare le prime prove e tutto il resto ci sta che si vada ad utilizzare un prodotto già pronto c'è anche la spunta per cercare nell'archivio delle immagini gratuite avete a disposizione un tot di immagini gratuite che potete scaricare tutto il resto come tantissimi altri font tante altre risorse le potete sbloccare acquistando il cricut access allora andiamo a vedere che cos'è ci clicchiamo sopra io non ho mai attivato neanche la prova gratuita perché non non mi serve però praticamente potete attivare la prova gratuita e dopo finito il termine della prova gratuita andrete a pagare un tot al mese lo potete acquistare sia mensile che annuale quanto costa il cricut access facendo una banalissima ricerca su google viene fuori un costo di circa 7 euro e 99 al mese oppure acquistato in soluzione annuale allora se io devo andare a pagare 7 euro e 99 al mese una galleria di prodotti già pronti a quel punto per come la vedo io ne pago 9 o poco più mi abbono a photoshop e mi realizzo tutte le grafiche che voglio secondo il mio stile secondo il mio gusto senza dover dipendere da nessuno questa è la prima precisazione che faccio e mi riallaccio a quello che ho detto nella lezione precedente una delle cose che non mi piace per esempio di questa schermata è che non vi spiega cioè non c'è una dicitura di che cosa stiamo andando a realizzare ci arriviamo un po per intuito perché vediamo le immagini e ci arriviamo un'altra cosa che non mi piace è che obiettivamente hanno reso gratuiti dei modelli che lasciano veramente a desiderare allora praticamente le immagini gratuite a disposizione che rientrano nella tipologia print and cut sono solo queste è la prima volta che ci entro anche io perché io me le realizzo dall'esterno e vedo però con gioia che con molta simpatia ogni tre per due abbiamo qui praticamente nella locandina del cricat access nulla togliere però se devo andare a spendere un abbonamento mensile lo spendo per qualcosa di veramente valido allora anche per quanto riguarda proprietà acquistato disponibile offline niente abbiamo praticamente a disposizione per un print and cut di 101 immagini allora mi rifiuto di continuare da questo punto di vista esco da immagini e mi vado a caricare un'immagine direttamente dall'esterno quindi carica immagine possiamo caricare png jpeg gif svg dxf e bmp mi vado a prendere un'immagine volutamente in jpeg e vediamo come si comporta il software me ne vado su download e mi scelgo questa la carico all'interno del programma vedo se posso fare un drag and drop ma non me lo fa fare dal download proviamo a metterlo in scrivania e fare il drag and drop non me lo fa fare quindi niente andiamo su carica carica immagine sfoglia prendiamo la nostra immagine in jpeg e ce l'andiamo a caricare all'interno del programma allora vediamo un po come ci si presenta carica immagine carica un'immagine dal tuo computer perfetto l'abbiamo fatto seleziona il tipo di immagine l'immagine sarà caricata come livello singolo ok è un jpeg quindi il problema non si pone poi selezionare l'opzione che è meglio si adatta alla complessità dell'immagine ciò ti permette di avere i migliori strumenti da utilizzare per lavorare con l'immagine abbiamo a disposizione immagine semplice ossia colori ad alto contrasto e sfondo trasparente e monocromatico noi abbiamo qui un rosino molto chiaro dei colori pastello non direi non li definirei i colori ad alto contrasto andiamo su abbastanza complesso dettagli e colori semplici con un buon contrasto tra il soggetto e lo sfondo stesso discorso di prima complesso invece minimi dettagli colori mescolati o contrasto basso tra il soggetto e lo sfondo questa è un'opzione più difficile da lavorare scegliamo complesso e andiamo su continua ecco qui la nostra immagine ce la fa ingrandire fino al vediamo a ok una percentuale abbastanza indefinita andiamo a vedere adesso come si comporta il design space con gli scontorni devo dire che si comporta abbastanza bene perché praticamente ha lo stesso processo di maschera e bacchetta magica che utilizza photoshop su questo non posso dire nulla allora qui sulla sinistra abbiamo un comando funzionalità di rimozione dello sfondo rimuovi gli sfondi per chiare immagini pronte da tagliare automaticamente o manualmente abbiamo quindi la possibilità con un'anteprima di andare a vedere come si comporta il software in automatico ingrandiamo l'immagine e qui possiamo vedere che ci sono delle parti che ha praticamente incluso all'interno dello scontorno dove l'orecchio del coniglietto era bianco come lo sfondo è andato a riconoscerlo come lo sfondo stesso e l'ha cancellato però noi questo non interessa soprattutto perché questa funzione automatica è la funzione che utilizza il programma su abbonamento andiamo a vedere invece più sotto quindi dovete scendere non lo vedete di default dovete scendere un pochino andiamo a vedere la funzione manuale con la funzione manuale potete andare in azienda selezionare infatti qui c'è il segno della bacchetta magica cliccate all'interno dello sfondo perché è quello che volete cancellare andiamo a vedere come anche in questo caso però meglio dello scontorno automatico a pagamento il software si è andato a riconoscere tutte quelle zone bianche che facevano parte dello sfondo ovviamente questo ragionamento si applica con immagini che hanno uno sfondo monocromatico se questa immagine fosse stata su uno sfondo di immagini quindi magari applicata su una carta applicata su un paesaggio quello che volete il discorso sarebbe stato completamente diverso perché lì saremmo dovuti andare a scontornarlo proprio manualmente però la bacchetta magica in questo ci aiuta e si comporta anche molto bene che cosa dobbiamo fare per andare a recuperare queste zone mancanti esattamente come fa photoshop attraverso le maschere andiamo su ripristina e scegliendoci la dimensione del pennello ideale ci andiamo a passare quindi delle pennellate nei punti che erano stati cancellati in questo modo controlliamo vedete qui anche era bianco su bianco e quindi l'ha cancellato e anche qui stesso discorso per le gambe controlliamo se c'è qualcosa sui capelli no allora ecco qua se avessimo invece voluto cancellare una qualche porzione andiamo su cancella clicchiamo e andiamo a cancellare quello che non ci interessa per quanto riguarda immagini semplici devo dire che si comporta fin troppo bene quindi a quel punto dobbiamo soltanto andare ad applicare l'immagine con applica e continua all'interno dell'area di lavoro che stiamo utilizzando ma andiamo a vedere come si procede invece per fare la stessa cosa direttamente con photoshop vogliamo utilizzare questo template perché ci è piaciuto così con me bypassiamo il design space quindi ci facciamo un bello screenshot di questa immagine questa qui e l'andiamo ad utilizzare su photoshop quindi freghiamocene altamente di questa immagine e trasferiamo su photoshop allora che cosa ci interessa sapere ci interessano sapere le dimensioni sappiamo che la lunghezza di tutto il progetto è 26,183 cm per 9,627 allora innanzitutto da quello che abbiamo visto sappiamo che dobbiamo ruotare la nostra immagine e ci andiamo ad inserire all'interno tramite file inserisci incorporato lo screenshot che abbiamo fatto eccolo qua adesso prendiamo una forma rettangolare e ci andiamo a creare un rettangolo delle misure esatte che ci ha appena dato il design space e gli diamo 26,183 cm di larghezza e 9,627 di altezza quindi qui dove c'è l'h di altezza scriviamo 9,160 sì vabbè scusatemi 9,627 e ricordate di scrivere centimetri altrimenti vi leggerà il valore percentuale questo qua ce lo spostiamo nella dalla barra dei livelli ce lo spostiamo in basso e dando un riempimento 50 per cento andiamo a fare in modo selezionando il livello del template ce lo andiamo ad ingrandire quel tanto che ci permette di avere la misura esatta tanto è vero che vi ritroverete con le stesse identiche proporzioni ok io non ho alzato e allargato ho mantenuto la proporzione e come potete vedere l'immagine risulta perfetta riaumentiamo a questo punto il riempimento qui a destra e abbiamo la grandezza precisa del progetto che stavamo andando a realizzare sul design space adesso utilizzando questo modellino non ce lo dobbiamo né ridisegnare e né niente perché comunque il progetto ce l'abbiamo già pronto qui a noi ci interessa soltanto quello che ci dobbiamo andare a mettere dentro adesso attraverso questo andiamo a caricare la nostra immagine quindi ci andiamo a riprendere la stessa immagine che abbiamo preso prima inserisci incorporato prendiamo la nostra pupattolina ok e ce l'andiamo a scontornare attraverso un gioco di tolleranze andiamo a definire lo scontorno preciso dell'immagine come potete vedere non è stato cancellato nulla qui ci sono i coniglietti qui sono selezionati tutti i capelli dove mancano semplicemente con shift andiamo ad aumentare la selezione semplicemente con un click nei punti in cui manca il tutto adesso che cosa facciamo non andiamo a cancellare il livello ma ci siamo a creare una maschera invertiamo la maschera ed ecco che abbiamo il nostro scontorno queste parti che mancano ce le andiamo a a recuperare attraverso la funzione non distruttiva della maschera quindi se vediamo che è andato via qualche dettaglio noi semplicemente ce lo andiamo a recuperare dove notiamo che c'è qualche piccolo dettaglio che è andato perso lo andiamo a recuperare ok ecco il nostro scontorno fatto lo andiamo a prendere con lo strumento sposta e ce lo andiamo a posizionare esattamente qui applichiamo la maschera di livello ecco che abbiamo la nostra immagine vogliamo aggiungere qualche altra cosa allora inserisci ok facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima rimpicciolisco l'immagine e me la applico con il centro esattamente qui dove c'è questo segnetto rosso a questo punto qui potremmo inserire magari una scritta e questa è la nostra tazza che cosa facciamo adesso abbiamo a disposizione queste tre immagini ce le possiamo andare a salvare in png per caricarle all'interno del programma già scontornate e già pronte ci creiamo una copia di tutti e tre i livelli e facciamo clic sul livello e poi esportazione rapida come png e la chiamiamo tazza la salvo in scrivania salva e torno sul design space questo il mio design space carica questa volta mi carico un'immagine già in png quindi non avrò bisogno di nessuno scontorno e di nessunissimo programma a pagamento do comunque complesso applico ecco che il software è andato anche già a leggere se avessi voluto tagliare queste immagini perché era uno scontorno già perfetto di suo essendo un png però io me ne vado su stampa do l'ok mi prendo l'immagine di nuovo ok ed ecco la mia immagine a questo punto bisogno di conoscere le dimensioni che avevamo realizzato come potete vedere è stato selezionato la parte più grande del nostro riquadro è la figura della ragazzina quindi io vado semplicemente a vedere quanto è alta l'immagine per riportarla poi sul design space l'immagine alta 9,14 cm e la vado a scrivere qui altezza 9,14 do l'ok ed ecco che abbiamo praticamente la struttura che avevamo realizzato su photoshop proiettata sul template della tazza della cricut dopo aver controllato che tutto è perfettamente in linea se non lo è magari ci spostiamo leggermente mi posiziono esattamente dove voglio e poi vado su crealo stavo pensando di togliere questo colore sotto però poi non mi si vede la voglio fare una modifica a questo punto io voglio andare soltanto a realizzare questo rettangolo da avvolgere poi magari andare a sublimare intorno alla nostra tazza innanzitutto mi vado a cambiare il colore questa finestra non si spostano e anche questo è rognosissimo per quanto riguarda la produzione di un'immagine perché se non c'è che non la vedi è difficile poi andare a guardare il risultato finale proviamola a chiudere intanto eccola e direi che potremmo anche tenerci questo adesso questo è soltanto una prova è allora io voglio andare a tagliarmi adesso questo quindi vado a chiudere tutto quello che non mi serve vado a selezionare tutti e qui sotto unisci livelli a questo punto abbiamo un unico livello quindi un'unica immagine vado su crealo ed ecco che se l'è già impostato per la stampa se l'è già impostato anche con il riquadro per il print and cut quindi così com'è il foglio andiamo su continua e ci dice qui vedi il mio alla stampante ci dice di andare a stampare da questa finestra stampante con la freccetta vi andate ad inserire la stampante adesso qui non ne ho collegata nessuna e avviate stampa vi stamperà questo foglio che poi andrete ad applicare esattamente così come lo vedete sullo schermo quindi facendo coincidere i vertici del tappetino col vertice del foglio e il programma andrà a leggere i crocini e vi andrà a tagliare all'interno di questo riquadro quindi vi andrà a tagliare soltanto l'etichetta chiamiamola così della vostra tazza fatto questo non dovete fare altro che applicarla sulla tazza metterla all'interno di una pressa di una mag press e realizzare la sublimazione da questo progetto che abbiamo fatto si evincono tutti i limiti di questo programma perché perché fin tanto che si tratta di andare a realizzare una stellina un cerchietto o combinare una forma di quelle presenti all'interno del pacchetto gratuito che ci mette a disposizione il software base allora ci può anche stare ma se vogliamo già andare a realizzare qualcosa di un po più complesso con immagini nostre magari ci piace disegnare in digitale o ci piace disegnare a mano perché no scannerizzare una nostra una nostra creazione e riproiettarla sul in digitale e ridigitalizzarla oppure lavorare con immagini di altri illustratori o con qualunque altro tipo di progetto che vogliamo fare parlando di grafica quindi non soltanto di taglio non sto dicendo di andare a prendere una carta stampata e tagliare fare il taglio di una scatola con quell'immagine già stampata io sto parlando proprio di grafica e se mi seguite sapete di che cosa parlo quindi se vogliamo fare qualcosa di questo tipo dobbiamo utilizzare esclusivamente il design space solo per caricare il progetto finito e niente scusatemi per le chiacchiere spero che questo video vi sia utile per iniziare a fare qualche piccolo lavoretto con la vostra maker con la vostra gioia con quello che vi pare vi mando un grosso un bacio un abbraccio come sempre e alla prossima ciao